buongiorno io se fin sono tornato a macerata e ho intenzione di farti tremare la cosina tutti i giorni l'aereo di linea della german wings che si schiantò sulle alpi francesi il 24 marzo 2015 era in realtà l'astronave dei tiro mancino con a bordo gli umani venuti a prenderli a questo punto è lecito domandarsi sono forse tiro mancino stupidi da inviare un'astronave civile in un campo minato oppure ai tiro mancino era stata garantita la non belligeranza con mio susseguente ritorno a casa per poi farli cadere in un agguato ad ogni modo qui sul pianeta sa grandi festeggiamenti da parte delle aliene per aver abbattuto l'astronave dei tiro mancino ci vediamo nei prossimi video messaggi